Saranno installate entro la primavera le nuove telecamere di videosorveglianza nell'area della stazione. Osservato speciale sarà in particolare il sottopasso dei cappuccini, nel quale in diverse occasioni si sono registrati episodi di furto e vandalismo. Quella parte di città dove è situato il monumento a resistenza è una delle zone più attenzionate, più da attenzionare che l'amministrazione ha sempre avuto come priorità. È un luogo di passaggio, di incrocevia tra la stazione del treno, il centro storico, il parco Miralfiore, l'ospedale. È quindi un luogo sul quale le forze di polizia hanno svolto in questi mesi un lavoro molto importante, anche di contrasto ai fenomeni di criminalità. Uno degli interventi che andremo a realizzare nei prossimi mesi, entro la primavera, è un intervento condiviso con la prefettura, con la questura, con le forze dell'ordine, è quello dell'installazione di due nuove telecamere di videoserveglianza, due lato da sottopasso dei cappuccini, lato stazione del treno, che quindi riprenderanno, saranno delle telecamere di contesto per quell'area e per anche la zona del monumento, dall'altra parte invece nell'altro lato dei sottopasso dei cappuccini. Tra l'altro telecamere di elevata tecnologia, con una qualità dell'immagine elevata, con tutta una serie di funzioni e piattaforme di ultima generazione. Abbiamo avuto anche un incontro insieme all'assessore alla solidarietà, Sara Mengucci, insieme agli agenti di strada, di fatto chi si occupa di iniziare anche un percorso di reinserimento nei confronti di inclusione sociale, nei confronti di ragazzi che non sono lì per chissà quali finalità delinquenziali, ma che nel contesto creano una situazione, una sensazione che può essere di insicurezza. L'annuncio dell'assessore Pozzi è stato accolto favorevolmente dal quartiere, che da tempo richiedeva interventi per intensificare la sicurezza dell'area. Siamo contenti che la cosa sia stata accolta e quindi l'assessore Pozzi in questo caso abbia ricepito la nostra richiesta, la richiesta del Consiglio intero del quartiere, perché bisogna dare atto, anche il Consiglio di quartiere ha fatto questa richiesta. Qui la nostra lotta è sempre stata quella, la nostra richiesta è sempre stata quella, che a fronte di queste problematiche, Fratelli d'Italia, di cui io faccio parte, essendo io poi consigliere di quartiere di Pantano, abbiamo sempre fatto questa richiesta. Noi vorremmo non solo le telecamere, perché sicuramente le telecamere sono una bella cosa, se poi vengono fatte quello che hanno detto, sicuramente sembra che siano delle telecamere di alta efficienza, naturalmente è un bel occhio sulla zona e può portare veramente a un risultato ottimale, però crediamo che anche una presenza in zona di un vigile di quartiere che comunque passi, comunque ascolti la gente e crea naturalmente quello che è la sicurezza nel totale della riuscita di questa cosa. Non solo sicurezza ma anche riqualificazione. L'assessore Pozzi ha infatti annunciato che insieme ad altre realtà sono in fase di discussione alcuni interventi di manutenzione volti a migliorare l'aspetto della zona. Abbiamo avuto questo incontro insieme a Legambiente, Lions ed altri, perché c'è l'attenzione da parte di tutta la città su quel luogo. Un'attenzione che negli anni passati aveva portato anche a delle proposte di rivedere quello che può essere il posizionamento del Monumento della Resistenza. Insieme a Legambiente abbiamo individuato alcune priorità di piccoli interventi di manutenzione per rendere più appetibile, più decorosa quell'area. Quindi da interventi che andranno condivisi con Aspes per quello che riguarda i fiori e le fioriere ad altri piccoli interventi di manutenzione e di sistemazione della pavimentazione. Grazie a tutti.